Grazie a tutti Con Melissa Martinelli dopo una bella vittoria convincente su Soverato La tradizione positiva in casa continua e c'è anche il sorpasso in classifica Sì esatto, per noi è molto importante rimanere concentrate il più possibile Perché ci sono in palio veramente dei punti importanti Soprattutto queste ultime e poi puntare al massimo Per quanto riguarda la pool di promozione Intanto l'andata è andata abbastanza bene Abbiamo recuperato tre punti che già all'andata contro Soverato non erano andati molto bene Puntiamo anche alle prossime a rimanere concentrate come questa partita Che non abbiamo veramente mollato una palla Domenica arriva un'occasione buona per andare avanti con questo andato Si va a Martignacco Quindi un'occasione valida per continuare questo momento positivo Esatto, anche lì dobbiamo riscattarci in realtà Abbiamo fatto la Coppa Italia lì, abbiamo perso Non è un campo facile da giocarci Però cercheremo di dare il massimo Grazie a tutti Grazie a tutti.